Ciao amici e benvenuti nel canale Questo video è un video diverso perché per la prima volta mi state vedendo prima della ricetta Oggi andiamo a fare una frittata La faremo con le verdure grigliate Qui ho messo le zucchine, i peperoni e le melanzane grigliate Poi abbiamo un pizzico di sale, tre uova e due foglie di basilico come aroma Adesso andiamo a vedere nel dettaglio come prepararla E' un salto A presto. A presto. Come vedete è quasi cotta. La faccio vedere anche dall'altro lato. Questo è dall'altro lato. Come vedete. Come vedete. Come vedete.